Sono su Ibu i propri due giocatori che hanno lottato nello spot precedente, vediamo un attimo che succede. Cosa potremmo aspettarci da questa mano? Di tutto di più, adesso vediamo. Cerini passa, parola Baldassarre che passa, Pazzaglini passa, rimangono sempre bui, passa anche il bottone, vediamo che succede. Parola va a Michelucci, col e il check del big blind, quindi andiamo a vedere un altro flop, check a buio di Michelucci, 3-3-5, all-in e instant call con full al flop di Michelucci, Michelucci prende il flop della vita, all-in di 6-5 su flop 5-3-3 e Michelucci ha 5-3. Solo un 5 e la sua speranza, a questo momento per rimanere. Ha vinto Michelucci, un flop abbiamo un altro player out, abbiamo un altro player out, sì, player out da Nariello che si era allungato per un paio di volte. Emanuele, lo salutiamo, lui ha salutato i suoi amici al tavolo, Emanuele. Sesto classificato, è andata? È andata, è andata bene, è andata bene tutta la settimana, ho vinto lo start-up il primo giorno, final table qui, sinceramente puntavo a qualcosa in più. Se mi permettete vorrei fare i complimenti per tutto, tutta l'organizzazione, il torneo fantastico, è andata così, non lo aspettavo, non me l'aspettavo questo colpo. È stato un colpo abbastanza incredibile, forse non capita spesso. No, vabbè ci sta, non posso dire altro, l'unica cosa mi dovete permettere di salutare la mia ragazza a casa. Allora, farlo guardando lì in camera. Un bacio alla mia ragazza e... Come si chiama? L'Accica. Perfetto, allora facciamo questo saluto qui da Navagorizza e quindi rientrerai adesso e la ritroverai. Eh, speriamo con calma, un po' stanco, tocca arrivare fino a giù. Da dove arrivi? Vengo dalla provincia di Avellino. Quindi ti aspetterà un viaggio abbastanza lungo. Eh sì, in macchina, un bel viaggio. Insomma, dai, tutto sommato però è stata un'esperienza che ti è piaciuta, IASPT, tornerai a partecipare? Sicuramente, eh, non vedo l'ora di ritornare per partecipare. Poi qui a Navagorizza con Asso Gold e tutti ho un bel trend, quindi tornerò sicuramente. Perfetto, allora ti ringraziamo, ti lasciamo andare un attimo a scaricare la tensione e alla prossima. Grazie, ciao, ciao a tutti.